Abbiamo appena trovato la soluzione, ve lo dico io, guardate Allora Oh? Boh! Eh no, non abbiamo trovato assolutamente niente Che cacchio, perché? Ciao a tutti ragazzi, sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft Oggi mi trovo in una mappa che in molti conoscono Il Logical Minecraft 5 Oh sì, vi ricordate i primi due episodi che ho registrato? Il Logical Minecraft 1 e il Logical Minecraft 2 E credo di aver fatto anche la terza parte Bene, adesso è uscita la quinta Io non mi aspetto nulla di sensato con questa mappa Perché sappiamo già tutti quanti molto bene Che è una mappa completamente stupida Dove niente ha senso Iniziamo immediatamente a morire Perfetto Perché c'è scritto in questa mappa Cliccare il pulsante di legno E sbagliato Come fai ad essere sbagliato? Scusa, dai, non mi prendere in giro Ti ho già detto di smetterla Ok, eh, senti Fammi iniziare Non supererai il livello in questo modo Vuoi vedere? Tu continua a parlarmi Quindi sicuramente è questo il metodo È inutile È inutile cosa? Vai, fammi passare Questa è l'ultima volta che te lo dirò Smettila Ok, probabilmente adesso funzionerà Quindi No, neanche adesso Allora, controlliamo l'inventario Perché ragazzi Io vi assicuro che questa mappa È super troll E ogni volta nasconde delle cose segrete Nell'inventario Potrei avere qualcosa in testa Oppure qua sopra No, non c'è niente Io ormai conosco molto bene il creatore di questa mappa E so che è un trollino assurdo Allora, fatemi dare per bene un'occhiata in giro In modo tale da vedere se c'è veramente qualcosa di nascosto Qualche pulsante segreto Che devo cliccare E evidentemente non deve essere un pulsante di legno Ma deve essere un pulsante di pietra Che c'è scritto qua? I pesci sono amici, non cibo Ok, sì, vabbè Non hai tutti i torti Però Come faccio io adesso a iniziare questa mappa, eh? Poi la mappa è tutta ricoperta di blocchi invisibili Cioè ragazzi Io non mi sto fermando apposta Proprio è ricoperta di blocchi invisibili Non mi fa andare avanti Da nessuna parte Forse devo fare una specie di parkour Oh Oh Che è successo? Oh Ok, ci sono dei blocchi invisibili Non so come ho fatto Ma sono riuscito A oltrepassare i blocchi invisibili Aspetta, fammi capire Ah Quindi qua non ci sono i blocchi invisibili Io voglio tenere lo shift Perché conoscendo il creatore della mappa A un certo punto inizierò a cadere Ne sono sicuro al 100% Pure no Sembrerebbe che stia continuando Aspetta Là c'è un coso di redstone Quindi probabilmente devo andare nel coso di redstone E Ecco infatti Come vi dicevo ragazzi Mi ha fermato Allora proviamo Di qua non si può andare Di qui Neanche Devo saltare Se proviamo a fare un parkour Oh Ok Ha funzionato E adesso Di qui nemmeno Ecco Perfetto Questo tra l'altro Non è neanche il primo livello Questo ancora è il livello per iniziare a giocare la mappa Cioè Non abbiamo ancora neanche iniziato Vi rendete conto? Ok Fermami Perfetto Salto qui Adesso c'ho tutto lo spazio del mondo Per fare questo Salto Ce l'abbiamo fatta Molto bene Devo salire sul blocco Questo qui Poi qua E un parkour Stiamo facendo un semplice parkour Però si può fare Sì 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 Bravo Kendall Così ti voglio Poi qui su Ottimo E adesso Quassù Non mi fa andare da nessun'altra parte Oh Pulsante Oh Perfetto Ecco Questo adesso è il tutorial Ora stiamo facendo il tutorial Ecco Bene Ovviamente il pulsante in legno Ma ammazza Allora controlliamo che non abbiamo nulla Non arrenderti Continua a cliccare il pulsante Siamo sicuri? Sicuri eh Perché io già sono morto due volte Non è successo niente Tre volte non è successo niente Quattro volte E non è successo niente Cinque volte E non è successo niente Devo continuare così ancora Non mi devo arrendere Va bene Allora se me lo dici tu di non arrendermi Io continuo Cinque Sei Sette Otto Perfetto Quante volte lo devo cliccare? Cento Ah Va bene Allora che ci abbiamo qua? Prossimo livello Voglio andare al prossimo livello Non posso perché ci stanno dei blocchi invisibili Di qua pure Di qua pure E di qua pure Qua che ci abbiamo invece? Redstone 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 Aprendo i cancelletti Sono riuscito a passare Una freccia Un'altra freccia No io ho paura a cliccarlo Ecco Facevo bene ad avere paura a cliccarlo Ce l'ha scritto Prossimo livello Io pensavo che mi bastasse cliccare questo Per andare al prossimo livello Invece no Ok adesso abbiamo quindi tre frecce E Forse Allora forse la redstone non la dovevo mettere qua Proviamo con le frecce Sì 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 Secondo me le frecce Allora mettiamo No Qua la freccia no Aspetta aspetta Perché ne abbiamo solo tre Quindi dobbiamo metterle In ordine Giriamone una così L'altra così E l'altra così Adesso tutte quante stanno indicando teoricamente là Giusto? Non succede niente Allora proviamo a fare indicare tutte le frecce In alto Ragazzi io non so più cosa fare Sono bloccato in questo livello E non ho la più palle idea di come superarlo Oh No Che è sta roba? E che ci facciamo con questo? Proviamo così No Oh Eh No non capisco Non ho la più palle idea di come io abbia superato quel livello Però l'abbiamo superato Ok Prossimo livello Parkour Molto semplice Ci sono dei pulsanti di legno Io non mi fido dei pulsanti di legno Perché mi è stato detto di non fidarmi Ma scusa sto parkour come cacchio si fa? Ma devo saltare sul pulsante? Oh mio dio Qua ci abbiamo una cesta con i pulsanti Perfetto Perché questo qua non si è unito? Questo pulsante è diverso Ragazzi questo pulsante è diverso Oh Sì Abbiamo appena trovato la soluzione Ve lo dico io Guardate Allora Oh Boh Eh no Non abbiamo trovato assolutamente niente Che cacchio Perché? No dai Pensavo di essere un genio Ero convinto di aver trovato la soluzione Già in testa mia stavo festeggiando C'avevo le scimmiette che ballavano E invece no Oh mio dio dai Aspetta allora posso riprenderlo? No Ma c'è Posso salire qua su? No C'è qualcosa di nascosto forse? Forse lo dovevo mettere dietro Non lo dovevo metterla davanti Eh però uno come fa a saperlo? Scusami Non è facile Non ci puoi arrivare di intuito Dietro lo dovevo mettere? Qua dietro? C'è qualche pulsante qui sotto? L'inventario è tutto pulito Vabbè Forse posso provare A mettere questi adesso No Questi non li fa proprio posizionare Eh? Ah Dovevo cliccarlo tre volte? Ah va bene Evidentemente mi bastava Semplicemente cliccarlo tre volte Ma chi ci avrebbe mai pensato? Scusa Per quale motivo L'avrei dovuto cliccare tre volte? Allora Là vedo un blocco Volete vedere che quello È Quella là è la chiave di tutto Devo riuscire ad arrivare là? Qua invece che c'è scritto Livello ispirato a mag smh E là c'è una pressure plate Io posso buggarmi in qualche modo Per entrare Che c'è là sotto? Non lo so Posso buggarmi in qualche modo Per entrare lì? No non funziona? No mi sa che non funziona così Uh Che c'abbiamo qua? C'è una freccia La devo prendere? Eh Cosa? No 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 Aspetta Do sta la freccia? La voglio cambiare di nuovo Voglio farvi vedere cosa è appena successo Non ci credo Aspetta E se lo cambio tipo a destra? Niente Quindi soltanto Oh no non funziona più L'ho rotto? Ah no ok perfetto Oh mio dio Che figata Quindi aspettate Io adesso devo fare una specie di parkour Con gli shulker box Giusto? Dobbiamo saltare dritti Quindi così Ah Annaggia Ce l'avevo quasi fatta Sbaglio qualcosa Sbaglio decisamente qualcosa Oh ok Perfetto Ora tappizzi qua Bene Poi qui su Poi qui su Apriamo questa No mannaggia Miseria Dai E andiamo Andiamo Oh Perfetto Oh mio dio Ok ce l'abbiamo fatta Wow Non ci posso credere Quel livello era veramente spaziale Che figata Trova il pulsante E piazzalo Sul blocco di diamante Ci sta già Ecco Te pareva che mi ammazzava Eh E mi ha pure scritto Seriamente Allora questi non possono essere Perché questi non me li fa piacere da nessuna parte Anzi sapete cosa Buttiamoli Va che non si sa mai Potrebbero Veramente Darci fastidio Ora credo che il pulsante si trovi Incastrato qua da qualche parte Dobbiamo controllare per bene Tutto quanto E dobbiamo stare attenti Perché è tutto fatto di pietra E quindi sarà difficilissimo Trovare questo Dannatissimo pulsante Perché sarà mimetizzato Alla perfezione L'ho trovato Ok abbiamo trovato il pulsante Perfetto Oh aspetta aspetta Mannaggia Ok aspetta Devo essere super veloce Devo aprire la porta E entrarci subito Ok perfetto Finisci il livello Finisci il livello Ok finisci Smettila di cliccare il pulsante sbagliato Ma come facevo a sapere che quello era il pulsante sbagliato Ma dai C'era un 50 e 50 di possibilità E ovviamente Ah Non l'avevo visto Uno era in legno L'altro invece era in pietra Oh cavolo Pensavo fossero tutti e due in pietra Allora Che altro ci abbiamo qua Bene Non ci sono i blocchi invisibili Ah devo salire sul cartello Non devo salire sul cartello O forse si No non mi fa salire sul cartello Devo salire là Oh aspetta ho visto un pulsante Raga ho visto un pulsante Aspettate vediamo se lo vedete pure voi Visto Si 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 C'è il pulsante Ok il pulsante sta là Quindi io in qualche modo devo riuscire a salire lassù Credo di aver capito Ci devo salire da shiftato Negli angoli Allora È il centro ad ammazzarmi Se salgo shiftato Sull'angolo Non muoio Ma non ha senso tutto ciò Non ha senso Cioè quale legge di ma È vero Mi stavo dimenticando Stiamo giocando la mappa chiamata Illogical Minecraft Questo Minecraft non ha logica Non ha senso Ok Perfetto Ora non dovrei più Morire No Ma no Già ero là Ero alla fine Eh ci sta pure un pulsante di legno Lo vedete lassù Fino ad ora il pulsante di legno Mi ha sempre ammazzato Ora non ci casco Ok qua ci posso camminare Sì perfetto Io non ti clicco Perché ho già visto un pulsante Di pietra Devo scendere qua Secondo me O qua O qua Allora vediamo Pian piano Pian piano Pian piano Pian piano I parkour con le scale Non fanno per me Do sta il pulsante Sta qui Ma lo posso cliccare anche senza arrivare là Forse Guarda Aspetta Così Boom Oh Non ci credo Ce l'ho fatta veramente Per la prima volta sono riuscito a completare un livello in pochissimo tempo Oh mio dio Allora Questo qua Che cosa c'abbiamo qua Una cesta completamente vuota È vuota Ne siamo sicuri Sembrerebbe che io debba cliccare questi pulsanti E sembrerebbe anche Allora Facciamolo in ordine Clicchiamo quello della cesta prima Poi destra Niente Poi questo Niente E poi questo Niente Perfetto I pulsanti non servono A un ciuffalo di nulla Uh Aspetta 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 Che ho visto Cosa hanno visto i miei occhi C'è un pulsante Là dietro Nascosto Che però Non succede niente Cioè lo sto cliccando Ma non fa nulla Questo pulsante L'ho clicca Ragazzi L'avete visto che l'ho cliccato Clicchiamolo di nuovo Ok E mo Scusa Se questo pulsante È inutile Tanto quanto gli altri Perché l'hanno nascosto Perché adesso sono spuntati Eh Sì ok Ma questi fogliettini Serviranno a qualcosa Devo metterli da qualche parte Ci devo fare qualcosa Un giochetto No Ok Adesso dovrebbero essere abbastanza Per riempirmi l'inventario Vediamo Perfetto Non è successo niente Ottimo Li devo tirare sulla cesta No 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 Aspettate Ho visto un coso nuovo Aspetta 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 Che c'è scritto Buttami Ma c'è sempre stato No Abbiamo finito il livello Non ci posso credere Cioè Vedete cosa intendo Per questa mappa Non ha senso Ci ho messo mezz'ora Ad aprire quella cesta A prendere Foglietti inutili Per poi trovare un coso Completamente a caso Dentro Vabbè Vabbè Avete capito tutti quanti Che c'abbiamo qua C'abbiamo un parkour Aspetta Nella cesta c'era della roba C'abbiamo un sapling Redstone repeater Sticky piston Redstone torce No Devo fare qualche meccanismo No Ma io non li so fare Aspettate Qua c'è un pulsante Che ha sponato un cavallo Ciao cavallo Perché sei appena sponato Non capisco No Raga Questo vuole che io faccia Qualche specie di meccanismo Però non mi conosce Non sa che io i meccanismi Non li conosco Non so fare niente Oh porca miseria Rimarremo bloccati qua per sempre Qua ora che esce Maiale Maiale Cavallo Pecora Maiale Cosa hanno in comune Che sono tutti degli animali Finish map Sì vabbè Tanto mi ammazza ora sicuramente Ah No No ma che Ma che dici Cioè ho Fino ad ora Tutta sta storia gigante Per non cliccare il Puffante di legno Che ti ammazza Non cliccare il pulsante di legno E poi in realtà Il pulsante di legno Era quello che mi serviva Per finire la mappa No vabbè Io ragazzi Non ci posso credere Basta Voi lasciate un mi piace A questo video Dal vostro imperatore Kendall E tutto E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Non ha senso sto mappa Ciao